Finirà 1-1 il 23 aprile del 75. 20.45, 110.000 gli spettatori, arbitro Eric Leemeyer, austriaco. Abbiamo visto, stiamo vedendo il gol decisivo, quello di Lorimer al settimo minuto che di fatto rende, se non impossibile, molto difficile il recupero del Barcellona. Lorimer al settimo con questo contropiede diagonale a battere Sadurni. Vedremo fra poco il pareggio di Clares al 69esimo nella ripresa, qui rivediamo il gol ancora, gol vittoria di Lorimer. Eccolo, l'inutile pareggio del Barcellona con Clares, Manuel Clares, colpo di testa e gol, passa il Litz. Grazie.